Cosa faranno i socialisti toscani alle prossime elezioni? Ne parla il segretario nazionale Riccardo Mencini in una convention a Firenze. Sosteniamo la candidatura al presidente Enrico Rossi, siamo parte della sinistra riformista toscana, presentiamo una lista aperta a movimenti e associazioni sindaci scivici in modo tale da caratterizzarla sui temi dello sviluppo, della legalità e sul tema del merito e dell'accorpamento dei tanti piccoli comuni che rischiano di vivere con difficoltà a bilanci troppo stretti. E' la lista di Toscana Civica? E' la lista dei cittadini per la Toscana, democratici per la Toscana, che raggruppa pezzi di società toscana, imprenditori e lavoratori.